La sicurezza in cantiere salva la vita, ma per un cantiere in sicurezza serve preparazione e conoscenza. Ecco il motivo che ha spinto operatori nel settore delle indagini e delle perforazioni del sottosuolo ad approdare in città per il corso di formazione promosso dalla Scuola Edile Piacenza. I partecipanti, dipendenti di imprese nazionali e internazionali, arrivati da tutto il mondo hanno concluso il loro percorso affrontando un esame di riabilitazione. Tappa finale dopo cinque giorni di lezioni e di aggiornamenti. Noi siamo qua a Piacenza per ottenere un patentino di perforatori di piccolo diametro perché bisogna eseguire un lavoro Bressanone-Isbruck in sotterranea. Noi siamo la dita francese, quindi ci ha chiesto di fare questo patentino per legge. E con lei anche colleghi che arrivano un po' da tutte le parti del mondo? Tutto il mondo, sì sì. Qua siamo con un ragazzo croato, dei greci e albanesi, inglesi, più o meno da tutte le parti del mondo. La sicurezza in un cantiere parte anche dalla conoscenza e dalla preparazione. Non c'è solo la sicurezza in cantiere ma anche avere degli operatori formati rende anche il lavoro meno pericoloso e più specifico. Al termine dell'esame i partecipanti dopo aver ricevuto il patentino di abilitazione hanno salutato Piacenza per partire verso i vari cantieri che li aspettano in tutta Europa. Non ci sono corsi come questo ovunque, dappertutto, dunque Piacenza è un'eccellenza. Poi anche la storia della perforazione a Piacenza è molto radicata, dunque diciamo anche storicamente siamo molto forti. Grazie. Grazie.